cari amici e cari amici benvenuti in questo nuovo video prima di iniziare con i contenuti di oggi come sempre vi ricordo di iscrivervi se ancora non siete iscritti e cliccando sulla campanellina verrete invece informati ogni volta che io pubblico un nuovo contenuto ci ho detto partiamo con l'argomento di oggi voglio preventivamente precisare che questo non vuole essere un corso questa non vuole essere una consulenza questo vuole essere un aiuto principalmente perché io questo video lo includerò nei miei report per i miei clienti perché sarà utile capire come utilizzare un supporto interessante e ho deciso comunque di pubblicarlo online perché non sempre facile trovare questo dispositivo che sia cartaceo digitale e non sempre magari è spiegato come utilizzarlo quindi oggi parleremo della ruota cromatica non vi racconterò niente di teorico su questo oggetto perché in questo momento non voglio focalizzarmi sulla teoria ma in poche parole vi voglio far vedere che questo oggetto è molto interessante perché mi consente di selezionare dei colori con determinati criteri e i colori si possono ruotare quindi potenzialmente posso selezionare tutti questi dispositivi si possono trovare in vendita li vende amazon di diverso tipo li vende anche wish forse anche aliexpress e tra l'altro il costo più o meno ve lo dico è uguale in tutti perché ho già fatto le mie ricerche magari vi lascio qualche link di amazon sotto al video nell'info box dove trovate tutti i dati anche su come contattarmi comunque dicevamo perché questo gioco perché sembra tale è molto utile anche nel mondo dell'abbigliamento perché mi aiuta a creare gli abbinamenti gli abbinamenti a parte nel caso in cui si abbia un look molto creativo seguono dei criteri perché così si facilita l'accostamento di diverse tipologie di colore quindi parliamo brevemente di quelle che sono queste combinazioni perché poi ve le nominerò per quello che riguarda la parte digitale fondamentalmente ci sono cinque tipi di armonie la prima di cui voglio parlare con voi oggi è l'armonia monocolore come lo dice la parola insomma noi andiamo a prendere uno spicchio ora io guarda caso ma può essere qualsiasi spicchio e posso andare nel mio look a mettere tutti questi colori vi lascerò delle immagini io vi metterò degli esempi che richiamano questi concetti dicevamo armonia monocolore molto semplice perché vado a prendere un colore declinato in varie sfumature la più chiara la più scura seconda armonia di cui andiamo a parlare è l'armonia bicolore nell'armonia bicolore io seleziono un colore e poi vado a selezionare un colore neutro che andrò a abbinare quindi bianco nero o grigio è un'armonia molto facile ovviamente è un'armonia che ha dei contrasti è un'armonia che più o meno tutti utilizziamo molto molto spesso terza armonia di cui andiamo a parlare è un'armonia che viene chiamata analoga perché si chiama analoga perché io vado a prendere tre colori che sono affiancati sulla ruota cromatica e hanno anche delle caratteristiche simili nella maggior parte dei casi anche qui ovviamente è un abbinamento tutto sommato ancora abbastanza dolce perché non ho dei grandissimi contrasti non mi soffermo a spiegarvi che cosa comunicano queste armonie perché questo ovviamente si farà in un'altra sede altra armonia che invece in questo caso diventa già un pochino più impegnativa è quella complementare cosa vuol dire che io prendo due colori che sono due colori complementari il giallo ha come complementare il viola perché fondamentalmente ho il giallo più i due primari che non lo compongono lo vedete sono accostamenti molto forti ultima ma non per importanza è quella che si chiama triadica o equilaterale già equilaterale vi aiuta molto a capire che tipo di armonia e io vado a prendere tre colori che sono posizionati in modo equidistante sulla ruota cromatica ok queste sono le armonie che fondamentalmente possiamo trovare ce n'è un'ultima che si chiama armonia parziale e si chiama così perché posso prendere in considerazione una delle armonie di cui abbiamo parlato esempio armonia monocromatica in cui io posso aggiungere il bianco il nero il nude il jeans o il grigio una volta che io capisco che questi sono i modi in cui abbinare i colori devo o procurarmi una ruota di questo tipo soprattutto all'inizio oppure posso andare molto semplicemente con un'applicazione digitale se cercato online ce ne sono parecchie io vi voglio parlare di quella che ho scelto io si chiama color gear io ho la versione free quindi gratuita avrei voluto poter mettere lo schermo aggiungendo poi un voice over ma per ragioni tecniche non è possibile quindi condividerò lo schermo da un lato vedrete a me dall'altro invece vedrete l'applicazione quindi che cosa succede quando io apro la mia applicazione vedo che posso visualizzare o la ruota più o meno come vedo qui però senza le varie divisioni quindi come se io la vedessi in questo modo oppure posso visualizzare il cerchio cromatico io credo che potrebbe essere più facile visualizzarla intera la ruota e poi vi dico perché comunque il criterio non cambia perché sopra ci sono una serie di icone e poi si andranno a selezionare potete selezionare i colori la icona che per assurdo andremo a vedere per prima è l'ultima l'ultima icona è quella che riguarda l'armonia monocromatica come vedete io mi posso spostare come voglio sul cerchio sul cerchio inteso l'area colorata quindi sulla mia ruota digitale io posso spostarmi a 360 gradi quindi vedrò dei colori diversi posso anche spostare il cursore più vicino al centro dove avrò dei colori più chiari oppure dei colori più scuri verso il bordo ea un cursore sotto la ruota che proprio mi altera la quantità di grigio barra nero che io avrò nei colori perciò passerò da colori intensi a colori meno intensi da colori più chiari a colori scuri ovviamente selezione che vi può aiutare molto soprattutto all'inizio perché posso stabilire chiaro scuro intenso non intenso quindi posso già andare un po in base a quello che vi hanno spiegato per la palette a capire quale è la tonalità più adatta a me per poi ricreare il look sotto avete dei quadratini e sono quelli che invece vi servono per poter vedere praticamente la vostra piccola palette di riferimento dopo di che ci spostiamo su un'altra icona che è quella che voi vedete sullo schermo che circondata da un cerchietto che si va invece a riferire all'armonia analoga come vedete ci sono i tre puntini posso sempre stare più sul bordo del cerchio in quel caso avrò colori intensi posso avvicinarmi al centro colori saranno meno intensi oppure posso decidere se voglio colori più scuri con il cursore sottostante e ho sempre poi le mie palette prima in fondo invece e in fondi intendo a sinistra ho la mia armonia complementare quindi sono due colori opposti e qui direi che il concetto è molto ben spiegato arriviamo poi all'armonia equilaterale anche qui potete notare quello che si diceva colori più esterni al cerchio colori più intensi colori più interni colori molto meno intensi e poi ho il mio cursore che mi consente di regolare la scurezza del colore quindi se io voglio o non voglio il colore chiaro sono abbastanza fruibili anche se voglio selezionare e il classico cerchio cromatico però con l'altra visualizzazione secondo me forse si riesce un pochino di più a capire qual è il tipo giusto anche rispetto una palette di riferimento come vedete è anche possibile andare a salvare la mia palettina il mio mix di colori magari perché mi si ricorrente magari perché so che per una determinata occasione o per una determinata circostanza o per tante circostanze mi piace vestirmi così e posso salvare quello che è il mio mix preferito quindi diventa molto semplice anche andare a riprendere quelle che sono le nostre tipologie di abbinamento questo è molto utile perché io ovviamente avrò una serie di capi nell'armadio se io mi salvo già delle combinazioni coi colori del mio armadio è molto molto facile poi posso stamparlo posso prenderlo all'interno posso averlo in applicazione perché poi quando sono in giro voglio poterlo vedere sempre trovo che l'applicazione risolva anche il problema praticità nel proprio usare un supporto di questo tipo spero che questa piccola spiegazione che vi ho fatto vi faciliti ad utilizzare questo dispositivo nel caso aveste domande avete tutti i modi per contattarmi in infobox so che non è una spiegazione tecnica è una spiegazione leggermente più pratica però riguardisco nuovamente è importante capire un principio questo è quello di cui volevo parlarvi oggi se il video vi è piaciuto io come sempre vi chiedo di lasciare un like vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao